Giovedì 3 giugno in Puglia sono stati registrati 2931 test per l'infezione da covid-19 e sono stati registrati 44 casi positivi. 8 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAPT, 2 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 9 decessi di cui 1 in provincia di Foggia. A Lucera sono 37 attualmente i cittadini contagiati dal virus, 21.177 sono i casi attualmente positivi di covid-19 in Puglia.